Siamo qua perché abbiamo dichiarato sciopero generale, il primo appuntamento è stato questo presidio davanti alla prefettura, il prossimo appuntamento è il 24 di novembre in Piazza Castello per protestare contro una legge di bilancio che consideriamo iniqua e con nessun respiro sociale. Non ci sono risposte all'emergenza redditi rispetto a un contesto estremamente complicato, abbiamo poche risposte se non nulla sulle politiche industriali e soprattutto non mettiamo in sicurezza il welfare universale e pubblico, dalla sanità all'istruzione ai trasporti. Il prefetto ci ha ricevuto, ha ascoltato con attenzione le nostre motivazioni, si è fatto carico in un qualche modo di portare ai ministri competenti le rivendicazioni che abbiamo fatto e naturalmente per quanto riguarda CGL e Will andremo avanti, non ci fermeremo finché non modifichiamo la legge di bilancio e le politiche più generali di questo governo. Intanto è stata una bellissima giornata perché c'erano 500 persone circa qui davanti a manifestare contro una finanziaria ingiusta iniqua e che non crea sviluppo al paese, le persone erano tante perché oggi c'era anche la rarefazione dello sciopero per cui potenzialmente non tutti avrebbero potuto scioperare e quindi noi manifestiamo una grande felicità, una grande soddisfazione. Prendiamo spunto proprio dalla manifestazione di oggi per quella del 24 che coinvolgerà in piazza Castello tutto il settore privato dove ci aspettiamo un'affluenza molto più numerosa e continueremo a manifestare le ragioni del nostro dissenso a questa finanziaria. Abbiamo fatto presente al prefetto che naturalmente era già informato quali sono le motivazioni che ci hanno spinto ad essere qui e lui naturalmente ha presoato e si è impegnato a inviare al Ministero le nostre posizioni.